è il 200 decimo giorno dall'inizio dell'anno siamo sotto il segno del leone la chiesa ricorda san nazario l'onomastico oggi è l'onomastico di nazario il nome a origine ebraica e significa consacrato il numero porta fortuna è il 4 il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio accadde oggi il 28 luglio del 1976 la corte costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio rai inizia così l'epoca delle tv private che cambierà il panorama mediatico italiano chi è nato oggi tra i personaggi famosi nati il 28 luglio ricordiamo il direttore d'orchestra riccardo muti e il filosofo austriaco carl popper la citazione del giorno non c'è niente di peggio del disordine quando si hanno capacità esigue franz kafka dice il saggio alla porta di chiride fortuna giunge il bel paese la certosa di pavia è uno splendido complesso monumentale voluto da giangaleazzo visconti con funzione oltre che di cappella privata anche di mausoleo familiare iniziato nel 1396 in periodo tardo gotico fu completato nella seconda metà del 400 con una ricca veste decorativa rinascimentale che lo rende uno dei monumenti più prestigiosi dell'arte italiana all'interno il tesoro più grande è costituito dal famoso trittico con 160 statuine intarsiate su dente di ippopotamo alla fine del 300 da baldassarre degli embriachi di ippopotamo alla fine dell'arte italiana all'interno di ippopotamo alla fine dell'arte italiana all'interno